Musica Dobbiamo immortalare questo momento che è l'inizio primulare Questo è ok in situazione Musica Kevin, c'è tu Mario? Eccoci, siamo in aereo Questa è la prima parte di Kevin che prende l'aereo Come che è tutta pubblicità? Si adesso, già sta impanicato con le muffe Oh come si blocca? Stop Ma guarda, devo mettere l'aereo? Dai Musica Musica E' vinciniamo E' vincinio Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo finalmente arrivati Ci ha accorto un bel cantico tipico di Dubai Comunque no, ho realizzato una grande cosa sull'aereo Siccome tutti mi dicevano che mi guardavano male perché non avevo mai visto i Kunis Devo dire grazie all'Emilets perché ho visto finalmente i Kunis sull'aereo Che avvino com'è andato? Grazie a tutti Siamo arrivati a destinazione Questo è il nostro hotel E cosa più importante E qua c'è la salva Ho trovato una cosa fantastica Che già mi porterò a casa stasera Finisce la mia collezione C'è la Pepsi con Buscalipa Dubai Buongiorno 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 ragazzi, allora il secondo giorno Io mi sono svegliata Io mi sono sceglia perché ci sta Starbucks sotto Quindi per la prima volta È successo un miracolo perché mi hanno scritto il nome giusto Cristina E niente Capito ancora dorme Io sono andata in piscina Perché ho detto Chi dorme non più gli apresci E adesso sto qua Sto facendo colazione Volevo far vedere ancora una volta all'hotel Che si vede E di qua invece ci stanno due torri così E niente Adesso mi butto un po' nell'acqua Perché fa veramente un caldo E dopo andiamo Ci vengono a prendere Andiamo a fare il tour D'eserto A dopo Guardate ci stanno Gli omini che puliscono Oh mio Dio Matti Ma Principe degli Emirati si è svegliato Dalle due E poi è il caldo Non sta orgiando Dopo andiamo Andiamo a fare La felicità Non gli piace Però dai L'ho portato Sta da Starbucks Li parlano E io ci risco un cazzo Perfetto Siamo finalmente sulla Jeep Che ci porta All'eserro Siamo All'inizio Siamo All'inizio Cazzo Oh, that's a viti car Sì, sì, sì. Sto sbossando le ruote Siamo arrivati a distrazione No Ora come? Per favore人 le ruite Uno Ma ciò caz No, 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 no! Oh mio Dio, un pazzo Già stavo per vomitare io Allora Allora è caldo Allora è caldo Allora, c'è tipo un quintale di sabbia Nelle scarpe C'è allusnante Allora 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 Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Look at the camera! Oh wow! 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 Baby cameras. Baby cameras. Baby cameras. Oh! Oh wow! Oh wow! I love you, I love you, and I love you. Oh and the love. Oh wow! Oh wow! Oh wow! I love you! Oh wow! Christina is dying. e questo è il sudadonimo in Caimano wow wow la grisina è molto bella questo si viene ecco la wow Sì, c'è un po' di musica! Sì, c'è un po' di musica! C'è un po' di... molto 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 è che ho parlato ammortizzatore ah oh oh è che ho parlato ammortizzatore ah 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 Siamo arrivati vicino ai cammelli, guarda che belli! Stiamo aspettando per i cammelli, ovviamente vado a scendere male, sbrattato! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Allora, siamo qui nel campo dopo con la fantastica gita vomitosa che ho avuto. E poi ci doveva essere lo spettacolo con il belly dance e tutte quelle cose lì. Però siamo stai sfigati perché oggi c'è tipo una festività. Una cosa dei musulmani, quindi non fanno festa, non bevono, non fanno niente. Quindi un po' di stile Ramadan. Quindi siamo qui a goderci la cenetta che io tento di mangiare perché dopo la vomitata... sono tutta una settimana musica depresa. Mi piace un cazzo. Mangio molto poco. C'è tutto. Prendo da volata. Pessita che mangia. Mi sono fatto pure andare a prendere la bifida perché si vergognava, rendiamoci conto. Vabbè me ne sono bevuta solo tre. Vabbè ci fa disperato. Vabbè mi chiuso? Vabbè. 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 Grazie a tutti.